Incendi non ancora del tutto domati nella California settentrionale e oltre 11.000 pompieri mobilitati hanno fatto notevoli progressi, riuscendo a spegnere i più importanti focolai, mentre le previsioni di imminente piogge potrebbero dimostrarsi decisive per risolvere la crisi. Le autorità tuttavia temono che il bilancio di 41 morti si possa ampiamente appesantire. Per il momento si stimano tra 22 e 88 vittime, ha dichiarato lo sceriffo Robert Giordano, responsabile della Conteo di Sonoma, ricordando il numero confermato dei morti nella sua area di competenza e quello delle persone che sono date ancora disperse a una settimana dall'inizio dei violentissimi roghi. Lo sceriffo ha detto comunque di sperare che diversi dispersi verranno ritrovati vivi.